si dice entropi ah si? ma mi sembra un po' una minchiata fatelo dire Gore-Tex ok questo è il super tornado a quanto pare va bene questo livello manca si? 16 sphinx what? sphinx sphinx sphinxinator sphinxinator ok non era difficile ottenere la giamma blu altrove va bene dai queste cose ormai le sappiamo questi livelli li passiamo come se fossero acqua proprio oh ciao casse bastardi che me le mettete qua eh si posso planare che figo che figo ok allora dove vado? di qua? fammi provare sta roba woo baby ciao ciao oh mio dio ciao scimmia oh mio dio quante vite che bello è un bonus anche andiamo ma subito proprio è un bonus oppure no? oh cazzo nooo why? ma perché? va bene dai adesso sono pronto per questa minchiata eroteo come come un tornado come Tasmania oh cazzo ok ci sono ciao c'è una mummia ma io me ne vado addio mummia cazzo 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 non le avevo viste perché sono scemo non avevo visto le luci fanculo sto coso ok ci sono vieni qua oh ciao fammi passare fammi passare grazie grazie caro oh via oh cazzo rola di una porca no 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 è un po' la faccia drogata Gresh ultimamente non lo vedo molto bene per me gli fa male roteare così tanto su se stesso non te l'ha mai detto tua madre qualcuno della tua famiglia eh non ci sono più le cose oh cazzo va bene però un checkpoint perfetto ciao dai bene fatto uno e due ciao ciao queste cose mi fanno male o non mi fanno una pippa perché mi sembrava non mi facessero una pippa prima oh ciao mummia così esce la mummia mi saluta non mi fa una pippa però quindi posso andarmene mi fate passare grazie grazie ah ma tanto li distruggono loro che cazzo mi serve allora oh cazzo dov'è ok qua ciao facciamo che muori uca uca oh cazzo qui non mi piace quando si muovono così che non posso decidere dove andare che succederà sicuramente qualcosa eh no no niente io sono un tizio con un lanciafiamme direi che non succede nulla a farmi fare il bonus va che mi manca qualche vita forse sì però tanto non mi danno le vite quindi cazzo lo faccio fare niente nei primi livelli non si sono sprecati a fare le transizioni negli ultimi sì cazzo che male cazzo 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 devo prenderla presa ce l'ho fatta ok allora come si fa così aia ma davvero oh oh e non ho più acu acu però ok sta cosa del del tornado sempre più forte è abbastanza un un inculata perché what no scusate ma perché va bene rifacciamola ma che cazzo va bene non capisco perché mi faccio esplodere ma va bene va bene così va bene così non ci proverò più ok no niente non ci provo più a prenderla tranqui me ne vado ciao ciao ma dai ma dai almeno quella potevi farmela prendere quelle devo smetterla di roteare come un pazzo proprio schiacciarmi una volta due tre quattro cinque sei sette più più lento ok ciao vabbè ciao vabbè ciao vaffanculo non la prendo non la prendo la vita non ho più voglia di ritentarla eeeh così si si spacca quella cassa no no ok devo farlo io per forza bene non ho preso la vita ho preso un po' di casse della frutta così a caso oh ciao ciao mummia mi fai passare grazie ma senti scimmia puoi proprio finire malissimo tu eh cazzo oh che cazzo volevo la frutta almeno ciao bello tempo di morire what cosa niente sta lì cre sta lì così umiliato umiliato dalle scimmie si guarda attorno così con aria con aria triste vabbè ho preso un po' di frutta raga almeno quella l'ho presa che fa sempre bene la frutta che cazzo muori muorici ok ho preso no non le ho prese tutte le casse me ne mancano undici come sempre io non so dove ah era nel percorso alternativo eh sì eh sì vabbè fa niente bravo crash ce l'hai fatta bye bye blimps ah ciao coco cos'è bye bye blimps inverti i comandi del veicolo nel menu dell'ops no no ti prego oh mio dio perché abbatti i dirigibili e come mitraglietta cazzo no devo invertire i comandi sì no sì ok ok se no mi 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 secca niente devo solo distruggere tutti tutti questi cosi oh cazzo le sparano ma devo prendere anche le casse immagino io le prendo le voglio le io esigo au au minchia mi mirano mica male questi stronzi wow shit pesa uff ho preso le cure puoi distruggere questo caso grazie yes bene distrutto anche questo cazzo di dirigibile eppure lui è morto oddio pure questo dirigibile è distrutto ma che cazzo siete stronzi però eh dai che prendo l'ultima l'ultima cosa l'ultima cosa oh shit presa bene devo solo distruggere questo cosa bene distrutto che minchiata ciao che minchiata di livello questo va bene a me sta bene così oh yes e anche la gemma cioè ma quanto so figo quanto so figo non lo so modo di esultare di Goku è ancora più più assurdo di quello di Crash tell no tales dead man tell no tales così che si dice ciao bandicoot uca uca il dottor cortex mi hanno chiesto di darti una lezione quindi ho fatto un paio di modifiche alla mia attrezzatura dall'ultima volta fattene o ti spazzano via oddio non c'è bisogno di essere così così poco piacevole allora non si deve andare segui la freccia gialla che vedi in alto ok oh mio dio perché un altro di questi livelli vabbè tanto non devo devo solo arrivare in fondo al livello immagino non fare altre cose quindi ciao vabbè ce la posso fare senza prendere tutte le casse anche me ne sbatte ciao oh mio dio oh mio dio sono proprio andato contro la palla quella è una palla ma che cazzo ok tento proprio la sorte ma tantissimo non mi importa ciao mmm addio ciao no what what cioè l'uccello mi fa male no non c'è mai non c'è mai stat non è possibile nessun uccello farebbe male a una donna battuto no scherzo scusatemi perdonatemi questo 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 momento di di grado scusate perdonatelo però non pensavo che un uccello mi avrebbe fatto male cioè onestamente chi cazzo l'avrebbe immaginato va bene vado di qua e di qua cosa c'è? niente non c'è il niente va bene oh che cazzo è? ma stai scherzando? bene no 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 prendi il checkpoint mamma mia no ok non lo prendere che c'è quel tizio pazzo che ci insegue dio questo tizio con la barchetta può morire grazie gentilmente lei scusi può morire grazie ok ok sto proseguendo abbastanza bene anche senza senza un checkpoint adesso vedrete che qualcosa mi ucciderà sicuramente o tipo questo squalo no non mi prende lo squalo lol check prendilo questa volta coco grazie grazie coco micchia ma è infinito questo livello mi sembra infinito cos'era? no c'è il secondo check si vabbè oddio 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 non l'ho preso oh stupido uccello bastardo battene via ok devo andare se sono sul solo sul coso si sul percorso giusto però vabbè ho appena distrutto il mio acqua ah è lì bene molto molto bene preso andiamocene via coco via check dai che ce la faccio a finirlo senza perdere una video no l'ho già persa una video che cazzo dico ferma 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 stai molto molto tranquilla coco presi oddio sandalissimo aia aia l'ho proprio preso in pieno sono i comandi di questo di questo acqua scooter qua come lo volete chiamare che fanno schifo ok ciao ciao oddio oddio ok ce l'ho fatta sono alla fine del livello si vita yes e anche questa è andata niente quando gioco con coco mi viene meglio mi viene meglio la vita proprio ma tra l'altro i power up no i power up saranno per tutti due immagino sia per coco che per crash non saranno stati così sessisti a darlo solo solo a crash il power up no i 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 power up Grazie.